La stagione nero-verde riparte in un meriggio melodioso di sole che scintilla allegro sull'erba di smeraldo. Sul prato del città degli Ulivi il presidente del bitonto calcio Francesco Rossiello, il suo vice Antonello Orlino, il confermatissimo nocchiero della cavalcata trionfale Roberto Taurino e il nuovo direttore sportivo Alessandro degli Esposti indicano la strada che conduce al futuro della Serie C. Dobbiamo costruire qualcosa che sia motivo di orgoglio per tutti e sarà un mercato diverso e noi non dobbiamo sbagliare un colpo. Alessandro degli Esposti, 40 anni, origini umbre, laurea in sociologia e un curriculum lungo un papiro fra D e C, è il nuovo direttore sportivo del bitonto ed ha le idee chiare. Sa di essere arrivato in un contesto già tetragono che ha bisogno solo di alcuni puntelli per affrontare l'avventura dei Neroverdi nel professionismo. Ci apprezzeremo ad affrontare un calciomercato diverso, con tempistiche diverse. Vogliamo costruire qualcosa che ci possa permettere di consolidare e garantirci la possibilità di mantenere questo patrimonio, questa categoria che poi rappresenta un patrimonio sia per la società che per la città in sé. In virtù di quelli che possono essere le riconferme cercheremo di mettere giocatori che ci permettono di compensare le mancanze e aumentare il tasso di qualità in un campionato oggettivamente diverso. Allievo di Daniele Faggiano, di S del Parma, un amico, uno dei più grandi direttori della Serie A, lo definisce con ammirazione. Degli Esposti sta già lavorando di concerto col confermatissimo alchimista sarentino Taurino. L'idea è quella di continuare su quella scia. Sappiamo che l'anno prossimo avremo difficoltà importanti, sappiamo di dover affrontare un campionato complicato, però deve essere una consapevolezza un po' di tutti, secondo me, anche di tutta la città. Quindi tutti insieme cercare di costruire un percorso dove sicuramente ci verrà richiesta grande umiltà, ci saranno dei momenti complicati da superare, però tutti insieme li supereremo. Alla base di tutto poi ci deve essere anche quella voglia di sorprendere, quella voglia di ambizione. Siamo una matricola, però dobbiamo avere quello spirito di voler fare qualcosa di straordinario. e sono convinto che ragazzi, man mano chi rimarrà e chi partecipe di questa nuova avventura percepirà questo dal presidente, da tutto lo staff e sono convinto che possiamo costruire ancora belle pagine. Dulcis in fundo, raggiante come sempre, il patron Rossiello. È un sogno che si è avverato, si è avverato per me, per la società, per tutta la città. Ora non ci resta che partecipare per toglierci tante soddisfazioni e regalare tante emozioni. Grazie.